ciao a tutti oggi faremo un esercizio nel quale metteremo un po in pratica quello che abbiamo imparato nelle lezioni sugli shape layer in particolare ci eserciteremo un po con il disegno delle forme e poi useremo anche la proprietà trim paths bene cominciamo subito col vedere quello che dobbiamo realizzare benissimo quindi niente di particolarmente complicato comunque a parte la mappa tutto il resto dobbiamo crearlo e animarlo noi quindi creeremo le due bandiere quella di roma e di new york le animeremo creeremo anche l'aeroplano e soprattutto il tragitto che unisce le due città e lo animeremo con la proprietà trim paths bene cominciamo subito la mappa che usiamo si chiama mappa terra ed è un file png se anche voi volete fare l'esercizio con me potete scaricare questo file dal link che trovate nella pagina del tutorial allora la prima cosa che creiamo è la bandiera di partenza con la sua animazione e la creiamo in una composizione apposta quindi andiamo in composition new composition chiamiamo la composizione bandiera roma e la dimensione la facciamo quadrata di larghezza 500 pixel e altezza 500 pixel la durata della composizione 20 secondi e come sfondo lasciamo nero diamo l'ok allora come sfondo anziché lasciare la scacchiera bianca e grigia mettiamo lo sfondo nero quindi clicchiamo su questo pulsante qui nella parte bassa della finestra della composizione e adesso cominciamo a disegnare gli elementi due cerchi qua e la bandiera rossa sopra allora prendo lo strumento ellisse disegno un piccolo cerchio qui quindi clicco mentre trascino aggiungo il tasto shift bene prendo lo strumento selezione seleziono lo shape layer la prima cosa che mettiamo a posto è l'anchor point lo vogliamo al centro quindi tramite la paletta move anchor point clicchiamo al centro del diagramma e piazziamo l'anchor point al centro dell'ellisse benissimo per centrarlo orizzontalmente in modo preciso rispetto alla composizione possiamo usare anche la palette align che se non avete qui a disposizione trovate come tutte le palette in window align eccola qua e basta che noi clicchiamo questo secondo pulsante qui e l'oggetto selezionato si allineo orizzontalmente rispetto alla composizione adesso eliminiamo il fil rosso che non ci serve quindi apriamo il contenuto di tutti i parametri dell'ellisse e spegniamo l'occhiolino di fil in modo che rimane soltanto lo stroke se c'è bisogno di aumentare o diminuire lo spessore basta aumentare diminuire il valore qua sopra benissimo questo è il primo cerchio il cerchio interno quello piccolo quindi tasto invio e lo rinomino cerchio interno adesso il cerchio più esterno quello tratteggiato per fare velocemente posso duplicare questo piccolo cerchio interno quindi lo seleziono edit duplicate o control t lo rinomino subito cerchio esterno e la prima cosa che faccio aumenta un po con la grandezza lo spessore del bordo deve essere molto più sottile quindi questo valore qua sopra lo diminuiamo tipo 2 3 pixel ma il bordo non lo vogliamo continuo ma tratteggiato quindi sappiamo che se andiamo nella timeline apriamo contents apriamo le proprietà dell'ellisse andiamo nella sezione stroke e apriamo i parametri di stroke c'è una sezione che si chiama dashis se noi clicchiamo il tasto più a fianco immediatamente la linea da continua diventa tratteggiata possiamo aggiustare la lunghezza del tratteggio se vogliamo anche gestire in modo diverso lo spazio tra un tratteggio e l'altra clicchiamo una seconda volta sul tasto più compare la proprietà gap e possiamo decidere quanto è lo spazio tra un trattino e l'altro in questo caso lo diminuisco un po benissimo quindi abbiamo anche il secondo cerchio chiudiamo entrambi i livelli per risparmiare un po di spazio nella timeline adesso disegniamo la bandiera incominciamo a disegnare la parte superiore che è un rettangolo con i bordi arrotondati e poi aggiungeremo la punta verso il basso bene allora disattiviamo tutti i due livelli cliccando in un punto vuoto nella timeline poi prendiamo lo strumento rettangolo e disegniamo un rettangolo in questa zona qua più o meno così anche qui come abbiamo fatto per il cerchio di prima lo centriamo orizzontalmente nella composizione cliccando sul secondo pulsante della palette align benissimo adesso per arrotondare gli angoli del rettangolo andiamo nella timeline apriamo il contenitore delle proprietà del rettangolo entriamo in rectangle path e qua c'è la proprietà roundness se l'aumentiamo ecco che aumenta la rotondità degli angoli benissimo adesso vogliamo aggiungere una punta che converge qui verso il centro dei cerchi ma per poter aggiungere togliere vertici dobbiamo prima convertirlo in una forma besie per poter far questo l'abbiamo visto in un tutorial apposta bisogna andare nella sezione rectangle path e cliccarci sopra con il tasto destro e poi attivare la voce convert to besie path a questo punto se selezioniamo path il tracciato diamo i vertici che compongono il rettangolo e per aggiungere nuovi vertici si usa lo strumento pennino quindi prendo lo strumento pennino e cliccando aggiungo tre vertici qui adesso prendo lo strumento selezione prendo il secondo dei tre vertici che ho disegnato e lo sposto giù in basso finché non arriva più o meno al centro dei cerchi bianchi e così abbiamo creato la bandierina rossa magari aumentiamo anche un filo lo spessore del bordo bianco benissimo adesso rinominiamo questo shape layer bandiera e in questo caso vogliamo che l'anchor point si trovi qui sulla punta della bandiera quindi con move anchor point clicchiamo qua e l'anchor point immediatamente si sposta in questa zona qua bene chiudiamo anche il contenitore di bandiera e adesso con lo strumento testo scriviamo roma quindi clicco nel punto dove voglio scrivere cioè qui e scrivo roma bene lo strumento selezione seleziono il testo e se tengo premuto il tasto control vedete che ho la possibilità di centrarlo rispetto al rettangolo che sta sotto adesso aumentiamo un poco la grandezza e anche lo spazio interlettera con questo parametro qua in questo caso io ho usato una font che si chiama vasser serif che abbiamo anche già usato in altri esercizi se volete usarla anche voi come al solito vi lascio il link nella pagina del tutorial da dove poterla scaricare bene adesso facciamo le animazioni come vedete sono tutte animazioni sulla scala però bisogna stare attenti che la bandiera e la scritta roma dobbiamo considerarli come un oggetto unico per cui in teoria dovremmo prendere i due livelli bandiera e la scritta roma e metterli in un'unica composizione ma questa volta applicheremo un metodo diverso per unire i due livelli cioè li imparenteremo fra di loro e per creare questa parentela lavoriamo attraverso i comandi che ci sono nella colonna parent qui sulla destra se per caso voi non vedete questa colonna parent qui nella timeline cliccate con il tasto destro in questa zona qua e dalla voce column spuntate parent bene adesso per imparentare i due livelli si procede in questo modo prendiamo in considerazione la scritta roma clicchiamo su questo pulsante qua che ha il simbolo di una spirale e trasciniamo verso il livello al quale voglio imparentare la scritta quindi quando arrivo su bandiera lascio andare a questo punto la scritta roma c'è scritto qui a destra è imparentata con il livello bandiera e questo cosa significa significa che da adesso in poi qualsiasi trasformazione io applico al livello bandiera la stessa trasformazione l'avrà anche la scritta roma facciamo subito un esempio se seleziono bandiera e evidenzio la proprietà scala quindi clicco il tasto s se aumento diminuisco la scala della bandiera vedete che anche la scritta segue la stessa animazione e se clicco il tasto r evidenzio la proprietà rotation e ruoto la bandiera anche la scritta roma ruoterà insieme alla bandiera quindi qualsiasi trasformazione io faccio alla bandiera la subisce anche il livello roma comunque questo discorso particolare delle parentele fra livelli lo prenderemo in considerazione più avanti nel corso quindi adesso concentriamoci su quello che dobbiamo fare qui dobbiamo lavorare sulla scala dei tre livelli cerchio interno cerchio esterno e bandiera bene in questo caso voglio che questi tre elementi si ingrandiscono da scala 0 a grandi così come sono più o meno in 10 frame quindi prendo il cursore avanzo nella timeline fino a 10 frame seleziono i tre livelli clicco il tasto s per evidenziare la scala di tutte e tre e tutti e tre accendo contemporaneamente l'orologio in modo da fissare la grandezza finale di tutti e tre gli elementi poi torno al tempo 0 e a 0 la scala a tutti e tre e quindi ho fatto l'animazione su tutti e quanti i livelli la scritta roma grazie alla parentela che ho creato con il livello bandiera si ingrandisce anche lei contemporaneamente bene voglio che l'animazione sulla scala termini con un rimbalzo e quindi selezioniamo le tre proprietà scala usiamo la palette effetto molla che abbiamo già usato anche in altri esercizi quindi vado nel menu window apro la palette effetto molla eccola qui e clicco sul bottone applica effetto molla a questo punto vedete che al termine della composizione i tre livelli rimbalzano bene prima di fare una preview però vogliamo anche che i tre livelli compaiono uno dopo l'altro il primo a comparire vogliamo che sia il cerchio esterno quello tratteggiato poi il secondo il cerchio interno e l'ultimo elemento la bandiera quindi veniamo qui nella timeline prendiamo il cerchio esterno e lo mettiamo più in basso e lo lasciamo qui prendiamo il cerchio interno lo spostiamo nella timeline qualche frame in avanti poi prendiamo la bandiera e la scritta li spostiamo ulteriormente più avanti quindi vediamo il risultato finale facendo una preview e direi che va bene così adesso riattivo come sfondo la scacchiera bianca e grigia perché voglio aggiungere a tutti gli elementi un effetto ombra in modo da marcare il contorno di tutti gli elementi quindi vado nel menu effetti sezione prospettiva drop shadow noi vedete adesso tutti gli elementi hanno un ombra però la distanza dell'ombra è un po troppo grande quindi veniamo nella finestra del controllo degli effetti diminuiamo il valore del parametro distanza di tutte quante le ombre io direi di portarlo a due giusto per avere una punta di contorno nero su tutti quanti gli elementi benissimo quindi torniamo nella finestra progetto visto che anche la bandiera di arrivo quella di new york è esattamente identica possiamo duplicare la composizione bandiera roma e poi semplicemente cambiare la scritta da roma a new york quindi appunto seleziono la composizione bandiera roma dal menu edit duplicate la seconda composizione la rinomino bandiera new york adesso apriamo questa composizione bandiera new york nella timeline per correggere la scritta quindi doppio clic prendo in considerazione la scritta roma ci faccio doppio clic in modo che si evidenzia quello strumento testo e riscrivo al suo posto new york ovviamente come vedete non ci sta dentro la bandiera rossa quindi diminuiamo un po' con lo spazio tra le lettere e diminuiamo anche la larghezza dei caratteri usando questo parametro qui in modo tale che la scritta new york stia perfettamente all'interno della bandiera rossa bene quindi anche questo secondo elemento è pronto adesso creiamo una composizione che contiene la mappa e li faremo l'animazione del percorso che unisce le due città quindi adesso creiamo una composizione grande come la mappa seleziono la mappa terra vedo che ha come dimensione 4000 pixel per 2400 pixel benissimo quindi vado in composition new composition chiamo questa composizione animazione mappa come dimensione abbiamo detto 4000 pixel di larghezza 2400 di altezza e come durata 20 secondi come le bandiere quindi do l'ok benissimo prendiamo il file mappa terra lo aggiungiamo qua e per non rischiare di muoverlo accidentalmente lo blocchiamo cliccando sul bottone lucchetto qui a sinistra del nome del livello bene adesso andiamo a zoomare nella zona che ci interessa quindi in questa zona qua e con lo strumento selezione prendo la bandiera roma e la piazzo lì non vedo nulla perché al tempo zero nella timeline la bandiera roma non è ancora comparsa quindi prendo il cursore lo porto più avanti adesso vedo la bandiera tutta intera diminuisco un po' con la dimensione così e la metto nel punto giusto che è circa questo benissimo quindi la bandiera è già animata e siamo a posto adesso prima di aggiungere la bandiera di arrivo disegniamo il tracciato che ci porta da roma a new york quindi disattivo nella timeline tutti i livelli cliccando in un punto vuoto prendo lo strumento pennino e con due punti creo un arco che unisce le due città quindi il primo punto lo faccio lì dove c'è la punta della bandiera qua il secondo punto dove c'è new york che è più o meno in questa zona qua quindi clicco e con il mouse premuto trascino in modo tale che la linea curva poi potete ruotare o tirare quanto volete questa maniglia in modo da avere un arco che vada bene per voi io direi una cosa più o meno così di questo arco mi serve soltanto il contorno e non il riempimento il fill quindi vengo nella timeline apro il contents apro lo shape il contenitore di questa forma e spengo il parametro fill lo spessore mi sembra un po troppo grande quindi diminuisco anche il valore dello spessore lo portiamo più o meno a 3 prendo lo strumento selezione e subito facciamo in modo che la linea da continua diventi tratteggiata quindi andiamo a cercare la proprietà stroke che sta all'interno dello shape che è qua eccola la apriamo e dove c'è la sezione dashis clicchiamo il tasto più in questo caso direi che dobbiamo soltanto diminuire un poco la larghezza dei trattini io direi che più o meno 4 può andare bene adesso dobbiamo fare l'animazione di questa linea dal punto di partenza al punto d'arrivo e sappiamo che possiamo ottenere questo attraverso la proprietà trim paths degli shape layer quindi chiudo shape 1 per risparmiare un po di spazio seleziono contents il contenitore generale vado nel menu add e aggiungo la proprietà che mi interessa appunto che è trim paths apro il contenitore dei parametri trim paths e in questo caso sappiamo che dobbiamo fare l'animazione sulla parametro end dobbiamo andare da 0 a 100 benissimo quindi quando vogliamo cominciare a disegnare la linea naturalmente dopo che la bandiera si è creata quindi questo avviene più o meno a circa un secondo e mezzo qui quindi in questo momento preciso end deve valere 0 per cento quindi lo porto a 0 accendo l'orologio e voglio che la linea si disegni abbastanza lentamente quindi prendo il cursore avanzo nella timeline e direi di fermarmi a circa 10 secondi in questo punto voglio che la linea sia completamente disegnata quindi si disegnerà in circa 8 secondi e mezzo allora vengo al parametro end e porto il valore a 100 per cento benissimo adesso prima di fare una preview ammorbidisco i due keyframe quindi li seleziono tutti e due e clicco il tasto f9 che è la scorciatoia per ammorbidirli in modo che la linea in partenza accelera e poi decelera alla fine quando arriva a destinazione adesso visto che questa composizione è molto grande prima di lanciare la preview abbasso la risoluzione della composizione quindi in questo menu qui dove c'è scritto full attivo la seconda voce alfa adesso il contenuto della composizione si vede meno bene di prima però il tempo di preview si dimezzerà quindi facciamo partire la preview e vediamo se tutto va bene perfetto direi che la velocità di animazione della linea va benissimo bene adesso anche alla linea aggiungo l'effetto ombra in modo che stacca un po' di più rispetto allo sfondo quindi vado nel menu effetti come ho fatto prima sezione perspective e drop shadow e come per gli elementi della bandiera abbasso il parametro della distanza da 5 a 2 benissimo adesso qui dove la linea è arrivata devo far nascere la seconda bandiera new york quindi torno nella finestra progetto prendo la bandiera new york e la aggiungo più o meno in questa zona qui come dimensione non ci siamo la diminuiamo più o meno come roma la mettiamo nel posto corretto che direi che è questo solo che in questo caso bisogna stare attenti che la bandiera new york nasce al tempo zero come la bandiera roma ma noi vogliamo che nasca in questo momento qui quando la linea arriva quindi prendiamo la barra del livello bandiera new york la spostiamo in avanti in modo tale che l'inizio della barra coincida nel momento in cui vogliamo farla nascere cioè qua perfetto quindi facciamo una preview del momento in cui la bandiera nasce direi che la tempistica è perfetta benissimo adesso disegniamo l'aeroplano nero e per poterlo fare in modo abbastanza preciso ci facciamo aiutare dallo strumento griglia e per evidenziare la griglia vengo in questo piccolo menu qui nella parte bassa della finestra della composizione e scelgo la voce grid bene adesso nel menu view attiviamo anche la voce snap to grid in modo che durante il disegno le varie forme vengono calamitate perfettamente all'interno di queste maglie che vedete qua allora prendiamo lo strumento ellisse disegniamo la parte centrale dell'aeroplano quindi clicco più o meno qua e trascino facciamo cinque unità della griglia più o meno qua benissimo allora voglio un'ellisse con il riempimento nero e senza il bordo quindi vengo qui nella timeline apro il contenitore dell'ellisse e spegniamo stroke il bordo e per quanto riguarda il fill nella palette colori dei fill scegliamo nero o forse meglio ancora grigio scuro benissimo adesso questo ellisse lo trasformiamo un po' facciamo in modo che sia più sottile verso la coda e più largo verso la testa per fare questo basta prendere i due vertici centrali e spostarli più verso la testa ma noi sappiamo che per poter manipolare una forma attraverso i vertici bisogna prima trasformarla in besier quindi veniamo qui nella timeline selezioniamo il contenitore dei parametri dell'ellisse che è questo e con il tasto destro lo convertiamo in besier path adesso prendo lo strumento selezione seleziono il vero e proprio tracciato che si chiama path ecco che compaiono i quattro vertici che compongono l'ellisse io prendo questi due vertici quali seleziono entrambi col tasto shift e li sposto qualche punto più avanti facciamo qua andiamo nella timeline già che ci siamo rinominiamo lo shape layer aereo aereo seleziono il livello e con lo strumento rettangolo adesso ci creiamo l'ala centrale quella grande quindi disegniamo un rettangolo abbastanza sottile così benissimo adesso aggiungeremo due punti uno qui e uno qui risposteremo più avanti in modo da avere un profilo che assomiglia a quello di un'ala quindi come abbiamo fatto prima per l'ellisse andiamo nel contenitore del rettangolo e cliccando col tasto destro sopra rettangolo path convertiamo questo rettangolo in besier adesso prendiamo lo strumento pennino aggiungiamo un paio di punti uno qui e uno qui e con lo strumento selezione entrambi li spostiamo più avanti più o meno fino qua adesso aggiungiamo anche un paio di punti qui li spostiamo un po più verso la testa quindi ancora con lo strumento pennino aggiungiamo due punti qua e li spostiamo direi qua bene prendo lo strumento selezione adesso duplichiamo queste ali in modo da ottenere rapidamente anche le ali picco e da mettere sulla coda quindi seleziono rettangolo e edit duplicate ottengo una copia delle ali adesso chiudiamo le altre due forme prendiamo rettangolo 2 e lo spostiamo sulla coda e anche lo rimpiccioliamo più o meno così perfetto vediamo se abbiamo tutto a parte il profilo dell'aereo ci manca anche questo profilo della cabina di pilotaggio anche questo lo teniamo rapidamente quindi torniamo in after effects selezioniamo l'aereo prendiamo questa volta la forma ellisse e disegniamo un piccolo cerchio in questa zona qua allora questo cerchio lo vogliamo più chiaro dell'aereo quindi dalla palette fill attiviamo un grigio più chiaro tipo così bene avviciniamoci un po di più a questa forma questo cerchio lo modifichiamo prendendo il vertice di destra e spostandolo in avanti quindi di nuovo bisogna di convertire il cerchio in forma besie quindi apro l'ellisse vado su ellipse pat tasto destro converto to besie prendo lo strumento selezione e sposto il vertice di destra come dicevo prima verso il centro magari un pochino di più così perfetto benissimo adesso abbiamo l'aereo completo la griglia non ci serve più la possiamo disattivare di nuovo quindi dal menu qui in basso disattiviamo la voce grid e adesso facciamo l'animazione dell'aereo lungo il tracciato innanzitutto facciamo in modo che l'anchor point l'aereo che in questo momento si trova qua si trovi al centro dell'aereo quindi seleziono l'aereo e con la palette move anchor point cliccando qui al centro porto l'anchor point al centro dell'aereo a mano lo ridimensiono un po' più o meno così e lo vado a mettere nella zona di partenza che è questa andiamo a zoomare un po' ridimensioniamolo ancora un po' il punto di partenza è questo bene allineiamoci col cursore nel momento in cui la linea tratteggiata parte e quindi clicco sul primo keyframe dell'animazione su end tasto destro go to keyframe time e il cursore si allinea con questo primo keyframe seleziono l'aereo clicco il tasto p per evidenziare la proprietà position e fisso la posizione di partenza dell'aereo quindi accendo l'orologio di position poi mi allineo con il keyframe finale dell'animazione della linea go to keyframe time in questo momento l'aereo deve trovarsi qui quindi seleziono l'aereo lo sposto a mano e lo vado a mettere esattamente lì dove deve arrivare qua ora il tragitto che unisce il punto di partenza il punto d'arrivo è una linea retta ma noi prendiamo le maniglie che troviamo lungo il tracciato di movimento e le ruotiamo e pieghiamo in modo tale da avere un tracciato che segue la linea bianca mettiamoci anche a metà strada prendiamo la maniglia del punto di partenza e la tiriamo e ruotiamo finché i due tracciati non coincidono partenza e arrivo così va bene quindi come vedete l'aereo segue lo stesso percorso del tracciato bene innanzitutto dobbiamo ammorbidire i due keyframe dell'animazione sulla posizione dell'aereo come quelli dell'animazione su end quindi selezioniamo i due keyframe e con la scorciatoia F9 ammorbidiamo anche l'animazione dell'aereo c'è ancora una cosa da aggiustare che è la direzione dell'aereo come vedete l'aereo rimane sempre orizzontale rispetto al suo movimento ma noi dobbiamo orientarlo lungo il tracciato sappiamo già come si fa si seleziona il livello si va nel menu layer dalla voce transform si attiva auto orient si apre una finestra e dobbiamo attivare questa voce qui orient along path diamo l'ok e adesso l'aereo si mette in direzione della curva come potete vedere in questo caso particolare la direzione di partenza dell'aereo purtroppo non è corretta dobbiamo correggere la direzione iniziale di 180 gradi e per farlo selezioniamo l'aereo clicchiamo R di rotation e correggiamo la direzione iniziale in questo caso particolare di 180 gradi e adesso l'aereo si muove correttamente lungo il suo tracciato benissimo facciamo una rapida preview per vedere se tutto funziona direi che è perfetto anche quando arriva benissimo ora dobbiamo aggiungere qualche altra animazione sull'aereo andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare vogliamo che l'aereo in partenza sia piccolo e trasparente poi si accende e si ingrandisce fino a una grandezza massima a metà del percorso poi di nuovo ritorna a rimpicciolirsi e alla fine sparisce di nuovo benissimo quindi facciamo queste animazioni clicchiamo il tasto P evidenziamo i keyframe della position poi shift S e shift T per evidenziare anche le proprietà scala e opacità allineiamoci con il punto di partenza quindi tasto destro su primo keyframe go to keyframe time in questo momento voglio che la scala sia più piccola di com'è adesso quindi la portiamo a circa facciamo 5% e in questo momento vogliamo anche che l'aereo sia completamente trasparente quindi azzeriamo anche l'opacità e poi accendiamo entrambi gli orologi di scala e opacità poi un secondo più o meno dopo portiamo l'opacità a 100% poi avanziamo ancora con la barra della timeline e più o meno a metà percorso quindi più o meno qui a metà fra i due keyframe in questo momento voglio che l'aeroplano raggiunga il massimo della sua grandezza quindi lo portiamo grande più o meno così poi a un secondo prima della fine vogliamo che l'aereo cominci a dissolversi quindi ho bisogno di aggiungere un nuovo keyframe qui con il valore 100% e per fare questo basta che clicco qui sul simbolo dei keyframe qui nella parte sinistra della timeline a questo punto si è aggiunto un keyframe senza che io abbia dovuto cambiare il valore al parametro opacità bene poi mi allineo con l'ultimo keyframe e in questo momento voglio che l'aereo torni piccolo come prima 5% di grandezza e completamente trasparente adesso prima di fare la preview ammorbidiamo anche i keyframe della scala quindi seleziono i tre keyframe della scala e li ammorbidisco F9 facciamo una preview benissimo perfetto adesso vediamo l'animazione che dobbiamo fare sull'ombra in partenza l'ombra dell'aereo è vicina all'aereo poi si allontana e poi di nuovo si riavvicina quindi seleziono l'aereo aggiungo dal menu effetti prospettiva drop shadow l'effetto ombra benissimo quindi allineiamoci con i primi keyframe siccome adesso dobbiamo mettere dei keyframe alla proprietà distance della drop shadow per fare questo facciamo un doppio clic sull'effetto drop shadow qui doppio clic a questo punto tutti i parametri dell'effetto compaiono nella timeline vogliamo che in questo momento qui la distanza dell'ombra sia 0 quindi a 0 la distanza accendo l'orologio prendo il cursore e a metà strada quindi più o meno qua voglio che la distanza dell'ombra sia la massima quindi la porto a questa distanza la direzione dell'ombra la aggiustiamo e la portiamo io direi più verso il basso così come distanza va bene questa e poi di nuovo ci allineiamo con gli ultimi keyframe quindi go to keyframe time sugli ultimi keyframe e in questo punto la distanza voglio che torni a 0 bene ammorbidiamo anche questi tre keyframe della distanza dell'ombra li seleziono f9 e magari diminuiamo anche l'intensità di questa ombra diminuendo il parametro opacità da 50% lo abbassiamo fino direi a 20% quindi l'ombra è meno intensa facciamo un'ultima preview per vedere se tutto va bene perfetto adesso creiamo una composizione finale della dimensione 1920x1080 e lì seguiremo il movimento dell'aereo all'interno dell'inquadratura allora andiamo in composition new composition nominiamo questa composizione esercizio 6 finale perché è la composizione che contiene tutte le altre composizioni come dimensioni abbiamo detto prendiamo il preset che usiamo di solito a noi che è HDTV 1080x25 quindi 1920x1080 e come durata lasciamo i soliti 20 secondi diamo l'ok benissimo qui dentro aggiungiamo la composizione animazione mappa quindi prendiamo animazione mappa aggiungiamola qua come vedete animazione mappa è molto più grande rispetto alla composizione finale ma noi spostiamo la mappa in modo tale da avere Roma al centro dell'inquadratura e precisamente noi vogliamo vedere nell'inquadratura questa porzione della mappa cioè l'Europa una parte dell'Africa è un po' dell'oceano quindi dobbiamo anche in questo caso qui ingrandire quindi evidenziamo la scala ingrandiamo anche la mappa un filo io direi di ingrandirla ancora un po' di più e metterla più o meno in questa posizione qua bene questa è la nostra inquadratura di partenza prima di continuare alziamo pure la risoluzione da half a full resolution e evidenziamo le due proprietà scala e position della mappa quindi seleziono la mappa la proprietà scala è già evidenziata quindi shift P evidenzio anche la proprietà position bene adesso decidiamo quando cominciamo a spostare la mappa io direi che la mappa deve cominciare a seguire l'aereo un attimo dopo che l'aereo è partito dal punto di partenza io direi in questo momento qui quindi adesso accendo i due orologi di position e di scale poi prendo il cursore e vado avanti fino a circa 9-10 secondi che è il momento in cui l'aereo arriva a destinazione e in questo momento qua prendo la mappa la sposto in modo tale che nell'inquadratura vedo la porzione di mappa intorno a New York voglio anche avvicinarmi di più con l'inquadratura quindi ingrandisco anche la scala della mappa in questo caso devo anche riaggiustare la posizione e quindi nel mio caso direi che come inquadratura finale potrebbe andare bene questa qui quindi all'inizio la mappa è ferma si crea la bandiera poi quando l'aereo parte la mappa si sposta verso destra in modo che l'aereo è sempre al centro dell'inquadratura e poi la mappa si ferma quando l'aereo arriva a destinazione prima di fare la preview ammorbidiamo tutti questi quattro keyframe le selezioniamo F9 vediamo un po' il tutto benissimo direi che tutto funziona alla perfezione e quindi per quanto riguarda questo esercizio ci possiamo fermare qua e ci vediamo alla prossima ciao ciao